Musica Buonasera siamo al Grill Project in via Zara a Salerno, nei pressi del Vestuti. Il Grill Project è un progetto griglia dove troviamo le migliori carni nazionali ed estere. Ovviamente le carni sono tutte certificate e di alta qualità. Noi abbiamo dei fornitori come partner, come Cillo Carni, che ci ha offerto la possibilità di iscriverci al Consorzio. Al Consorzio è visionabile su www.ilvitellone.it, che è il Consorzio nazionale alla tutela della Marchigiana e Chianina, che sono le carni più pregiate al momento in Italia. Questa carne viene cotta con delle tecniche di cottura particolare, alla griglia e sono visibili a tutto il pubblico che viene a trovarci. I nostri clienti potranno scegliere e toccare con mano la carne che poi mangeranno al piatto.